Buonasera a tutti, sono Vercellino Massimiliano e sono qui per raccontarvi il nostro caso di successo. Devo dire grazie alla Banca Sella che mi permette sempre di partecipare a queste cose. Devo dire grazie alla Banca Sella se oggi sono qui perché mi ha spiegato tante cose quando abbiamo trasformato la nostra attività da un'attività puramente commerciale italiana a una internazionale. Io rappresento la Fashion Star, la Fashion Star è nata da pochi anni a differenza delle aziende che mi hanno preceduto che sono centinaia e centinaia di anni che sono presenti sul mercato. Noi siamo giovanissimi, siamo nati come società che si occupa del mercato internazionale solo dieci anni fa e abbiamo fatto questa trasformazione per puro caso diciamo. Nel canzone macchina di 105, a un certo punto c'era la pubblicità di 105.net, allora era un po' agli albori internet e a questo punto ho detto chissà perché non trasformare questo nome che mi piace anche nel nostro nome del negozio virtuale su internet e presentarci a tutti i nostri clienti nel mondo. Quindi è nato così per caso anche il nome del nostro primo sito che rappresentava il nostro negozio, i nostri negozi e si chiama Ottica.net. Quindi grazie a questo ascolto della pubblicità del sito della radio 105 è nato il primo nostro sito e la prima raffronto internazionale nel mondo. Ovviamente non è così facile pensare di passare da una realtà nazionale a una realtà internazionale, soprattutto per una dimensionalità dove la signora che mi ha preceduto diceva dell'export manager noi non potevamo permettercelo. Quindi abbiamo dovuto costruirci su nostra esperienza tutto quello che era la capacità di poter spedire e fatturare in tutto il mondo. Quindi l'inizio è stato complicato però molto affascinante perché si sono creati degli scenari veramente di vario genere. Grazie ai partner abbiamo capito tante cose. Intanto anche grazie alla Banca Sella che fin dall'inizio ci ha fatto capire che l'incasso, ad esempio elettronico, è un incasso diverso dall'incasso reale, quello nel negozio. Quindi abbiamo cercato di capire anche quando riconosce le frodi e non. Questo può sembrare banale ma è una cosa importantissima per poter iniziare l'attività nel mondo internazionale. E quindi vi racconterò un attimino come ci siamo trasformati da un retro bottega dove spediva le prime cose a una industrializzazione sempre più perfetta e oggi possiamo essere felici di dire che la nostra attività è arrivata nel 2012 a fattore 12 milioni di euro in un anno sul mercato internazionale partendo dieci anni fa da zero. Quindi siamo molto contenti di questo. Vi faccio vedere alcuni avanzamenti della nostra... ecco intanto questo è oggi la nostra piattaforma. Siamo partiti ovviamente col sito di Otticanet che era quello che era più facile perché venivamo dal mondo occhialeria, quindi mondo fashion, avevamo nove negozi, quindi abbiamo continuato a mantenere ancora oggi abbiamo metà il mercato retail in Italia però già nel 2002 abbiamo deciso di intraprendere questa attività internazionale. Subito dopo abbiamo detto beh ci troviamo a Biella, mercato tessile perché non strutturare un qualche cosa, una piattaforma che ci permette di vendere i prodotti che produciamo a Biella e quindi è nato Luxe Tise, inizialmente con cravate e sciarperia tutti con dei migliori marchi, dei migliori brand, poi con le camicie prodotte sempre a Biella e quindi tutta la serie di camiceria e successivamente con i papillon e con tutto quello che è il mercato tessile. Da qui è poi nato il sito Clepsu che si occupa di orologi e gioielli, sempre nel mondo fashion. Parliamo poi di Dr. Lens che invece è sempre la nostra sezione per quanto riguarda l'ottica quindi abbiamo creato tutta una piattaforma per quanto riguarda il mondo lente a contatto. Bino Store sempre molto più tecnico, abbiamo creato una sezione, una chicca dell'ottica che è quella che si occupa di telescopi e sistemi binocoli, microscopi eccetera. Non per ultimo, da pochi giorni siamo online con un prodotto nuovissimo che esula dal nostro mercato nuovamente ed è Zonet che si occuperà di tutto quello che è il mercato degli animali, fatta eccezione agli animali in essere. Quindi dal vestitino firmato a qualsiasi oggetto che si possa pensare e immaginare. Quindi noi siamo partiti veramente da zero, quindi da una ragazza che si occupava all'inizio di tutto dalle comunicazioni con i clienti, agli ordini, alla gestione con il corriere, ai problemi del destino per il fatto della dogana di destino e piano piano ci siamo costruiti una nostra esperienza e man mano correggevamo quello che sbagliavamo. Oggi abbiamo 25 dipendenti, abbiamo la sede a Biella e vendiamo tutti quei prodotti che prima vi ho elencato. Questo è l'ultimo nato ancora in fase di definizione delle home page, però siamo quasi a buon punto. Questa è la nostra piattaforma madre, poi quella delle enti a contatto, Bino Store, quello dei binocchi e telescopi, orologi e gioielli, l'altro diciamo del lusso degli occhiali, questo Luxe Ties che è cravate, sharpie, quindi tutto il mondo tessile, quindi nel vostro caso quello più inerente. Quindi siamo andati online e siamo andati in internazionale proprio perché volevamo innovare, volevamo cambiare e trovare un mercato nuovo, anche se in quegli anni comunque il retail era ancora molto forte, che continuavamo a crescere, però io vedevo l'opportunità di trovare un mondo molto più vasto, dove i prodotti del Made in Italy erano molto ricercati. E in effetti noi in tutti i nostri siti, oltre ovviamente a dare il massimo del servizio, la qualità massima, puntiamo tantissimo sul Made in Italy. Quindi anche tutti gli accessori che creiamo noi, dalla pellina per polire lenti, in microfibra, c'è scritto Made in Italy, sulle nostre pagine, nei nostri siti c'è scritto Made in Italy, tutto perché il Made in Italy nel mondo è molto valorizzato e questo bisogna forzare. Partner tecnico, io devo dire grazie sempre a tutti i partner che ci hanno fatto crescere, siamo arrivati insieme a queste cose perché abbiamo affrontato insieme tutte le problematiche che abbiamo trovato sul nostro percorso. Appunto come dicevo prima, dalla Banca Sella per capire veramente tutti i problemi delle frodi, non le frodi, come riconoscerle, eccetera, eccetera, come incassarle. Loro sono molto avanti, sono nati prima di noi ancora su internet, ma loro nel mercato online degli incassi secondo me sono il top. A chi ci ha seguito anche nella parte marketing, che è un'altra parte molto difficoltosa, che si trovano tanti squali in questo mondo. Poi abbiamo sempre sperimentato cose nuove, cercato sempre di trovare delle nuove strategie per poter affrontare qualsiasi mercato, sempre nel migliore dei modi, con nuove opportunità. Quello che ci ha contraddistinti è che siamo partiti veramente con pochissimi fondi iniziali, e quindi non abbiamo avuto degli investimenti milionari, ma veramente siamo partiti con le briciole. Nel 2003 quindi nasce la nostra idea e nasce Otticanet. Successivamente quindi creiamo il nostro primo sito, una cosa molto elementare, molto semplice, adatta ai monitor di allora, avevamo dei computer molto lenti, quindi poca grafica, i monitor erano piccolini, non hanno bisogno di tante informazioni, a differenza di oggi che un sito deve contenere molte cose. Si è evoluto, poi subito è diventato già più ricco di immagini, di immagini marketing, eccetera, eccetera. Poi nel 2004 procediamo così perché ovviamente anche il fatto di caricare tutti questi articoli è un costo, e ci vuole parecchio tempo per gestirlo, visto le poche risorse umane che abbiamo. Quindi abbiamo un pc, una ragazza che fa tutto e in scatola fa e spedisce. Nei primi sei mesi quindi per noi già vendere 40 prodotti nel mondo ci sembra veramente una cosa di entusiasmo, entusiasmo delle stelle, diciamo che bello, proprio bello, bello. Ma è solo l'inizio. Praticamente la nostra storia nel 2005 è quello che ci fa svoltare. A questo punto, proprio questo grazie al nostro partner di marketing, dice dobbiamo cambiare, dobbiamo fare il passo avanti, dovete fidarvi di me, facciamo tre mesi come dico io e vediamo che cosa succede. A questo punto, quindi con la pubblicità giusta e la promozione tramite Google, il nostro investimento, decidiamo di investire il 15% del fatturato precedente nella pubblicità del mese in corso, quindi aumentano gli ordini e da 4 a gennaio 2005 passiamo a 568 a dicembre 2005. Quindi dobbiamo incominciare a pensare che dobbiamo attrezzarci, quindi cominciamo a creare uno staff di tre persone, un ufficio dedicato e nel 2006 nasce questa nuova società che si distacca dalla società che si occupa del retail e comincia a fare B2B e B2C. Cosa succede? Però ovviamente questa crescita è ancora tutta artigianale, quindi tutta fatta manualmente e gli ordini sono cartacei, non c'è niente di, diciamo, attrezzato alla crescita del numero di ordini. Quindi investiamo del nostro tempo e denaro a migliorare tutte, diciamo, tutte quelle sezioni che devono essere attrezzate alla crescita con il numero di ordini. Quindi facciamo la prima espansione del call center, quindi creiamo del personale dedicato al call center. Quindi adesso abbiamo 12 persone che rispondono in inglese, tedesco, francese, svedese, greco e chi più ne è più ne metta. Allora abbiamo inglese e qualche cosa di francese. E diamo sempre di più assistenza sugli ordini, quindi sempre gente più preparata al prodotto che andiamo a vendere in modo di essere preparata alle domande che fanno i nostri clienti. Questo è l'ufficio oggi, quindi abbiamo aumentato il numero di postazioni. Da secondo passo, dopo aver inserito tutte queste persone preparate, abbiamo deciso di automatizzare il back office. Quindi oggi abbiamo un controllo di tutti gli ordini in maniera veloce. Poi dentro all'ordine c'è ovviamente un'esplosione di tutti i dati, però già all'esterno, quando c'è l'elenco degli ordini, sappiamo se è stato fatto con un sistema tablet, se l'ordine a seconda del colore è stato gestito o non è gestito, se ha dei problemi come in questo caso che è viola vuol dire che ha dei problemi, se è una frode in automatico, se abbiamo nei nostri database il sistema cellulinevidenzia già, se il prodotto è presente a magazzino o non. Quindi diciamo tutte le informazioni solo da una schermata così. E il terzo passo praticamente è quello di, abbiamo detto, dobbiamo essere celeri nella spedizione, e quindi dobbiamo arrivare a spedire qualsiasi 70% dei prodotti che acquistano ogni giorno nell'arco dei 24 ore. Oggi riusciamo a consegnare a New York massimo 24-36 ore dall'ordine, quindi siamo veramente, penso, bravi in questo. Questa è la crescita dei fattorati nei vari anni, della Fashion Star. E poi ovviamente anche questo, praticamente dell'evoluzione del back office, ha implicato anche la trasformazione del magazzino. Non potevamo più lavorare con delle scatole con dentro tutta la merce, ma abbiamo dovuto praticamente creare proprio un magazzino semi-automatizzato. Quindi abbiamo creato tutte delle celle con i prodotti tutti già pronti per la spedizione, con una sigla e un numero, in modo che il sistema identifichi il prodotto e l'operatore può andare a prelevare il prodotto che è stato venduto e poi impacchettato nel pacchetto con le sue caratteristiche di nazione in nazione, perché ovviamente poi anche la generazione della fattura ha bisogno di dati proprio specifici per ogni nazione. Quindi noi siamo dei coraggiosi, questa è una parte del nostro staff, mi auguro anche voi. Grazie. 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 Grazie.